Se stai guardando questo video potrebbero essere le 3 di notte e domani ti sposi, quindi bando a tutte le chiacchiere che trovi qui, nessuna sigla, andiamo diretti sul sito della SIAE dove vedrai tutta la procedura completa per registrarsi e fare il permesso per la tua festa privata. Per prima cosa devi avere a portata in mano il codice fiscale, una mail e un numero di cellulare a cui accedere durante la registrazione. Andiamo sul sito www.siae.it, in alto a destra c'è accedi-registrati, clicchiamo su registrati e inseriamo tutti i dati, nome, cognome, codice fiscale, eccetera. Quando inseriamo la mail clicchiamo sul tasto della chiocciola e verrà inviato un codice sulla mail, così allo stesso modo dopo aver inserito il numero di cellulare clicchiamo e inseriamo il codice che ci arriva per SMS. Per poter accettare la liberatoria sulla privacy è necessario cliccare sul link, quindi clicchiamo e poi se vuoi leggere, leggi, se no clicchi su l'accettazione e andiamo alla schermata successiva. Sì, lo so, la siae è piuttosto prolissa, quindi c'è da mettere tutti i dati di residenza, data di nascita, eccetera. Andiamo ancora avanti, inseriamo una password, la ripetiamo, dopo aver completato la registrazione ci troviamo di fronte alla schermata iniziale. Quello che ci interessa in questo momento è in alto a sinistra, ovvero permessi per feste private. La prima cosa che dobbiamo inserire è il luogo dove avverrà l'evento, quindi la provincia, il comune. A questo punto dovremo inserire l'indirizzo o la denominazione. Prestiamo attenzione al fatto che molto spesso o le location cambiano di nome oppure il nome con cui sono registrate non è esattamente quello con cui siamo soliti chiamarle. Quindi ci possono essere alle volte più opzioni tra le quali scegliere oppure non sappiamo di preciso qual è. In ogni caso, se abbiamo l'indirizzo preciso, è sempre preferibile. Scorriamo tra l'elenco e clicchiamo su quella interessata. Può darsi che alle volte non sia presente, quindi dovremo scriverla di nostra spontanea volontà. Però è bene verificarlo breve per evitare che si formino dei cloni non esattamente uguali. Oppure, alle volte è necessario inserire un'abitazione privata e quindi dovremmo essere noi a inserirla perché è evidente che non c'è. Piccola premessa, di solito nelle abitazioni private non è necessario il premesso SIAE a meno che non ci sia uno spettacolo ben preciso e particolare. Ecco, in questa schermata ci sono tutti i dati che servono inserire. Attenzione perché ci sono un paio di trabocchetti, ma andiamo con ordine. Prima di tutto il tipo di evento, matrimonio, compleanno, compleanno di figlio minore o altro. Se diamo un'occhiata brevemente alle tariffe scopriamo che il compleanno è quel tipo di evento nel quale il costo per il premesso SIAE è minore. Però, attenzione, se vado a fare il permesso per il compleanno mi chiede un codice fiscale. È necessario che la data nel quale si svolge l'evento sia entro un mese dal compleanno, quindi o 15 giorni prima o 15 giorni dopo al massimo. Se sei nato a ottobre e festeggi il compleanno a maggio devi fare il permesso per altro tipo di evento. Questo per evitare che le persone indichino il permesso con il costo minore in qualsiasi tipo di evento possibile. Concentriamoci però sul matrimonio che è quello più particolare. La domanda fondamentale che ci viene fatta è che tipo di musica viene proposta? Quindi musica dal vivo, musica registrata, musica sia dal vivo che registrata. Attenzione perché se clicchi su musica registrata ti viene addebitato un costo in più. Ne parliamo meglio nel video qui specifico. Però il consiglio fondamentale è che se c'è qualcuno che fa musica dal vivo che tu faccia il permesso per musica dal vivo perché il costo è inferiore. Notevolmente si parla di 80 euro più IVA in più nel caso di musica registrata. E questi sono soldi che vanno ad una società esterna siae in cui c'è un ampio dibattito e controversa ancora in corso. Però è evidente che se c'è qualcuno che suona dal vivo ti consiglio di fare il permesso soltanto per musica dal vivo. Poi a discrezione se voler scegliere di pagare quello che in teoria vorrebbero pagarsi oppure soltanto la cifra minima che comunque ti consente di svolgere l'evento senza nessun tipo di problema. La domanda successiva è un'altra domanda ostica perché non c'è più la distinzione tra ballo e non ballo nel tipo di permesso e soprattutto nel costo del permesso. Oltretutto c'è una piccola incongruenza perché nei locali dove non è consentito il ballo in teoria non si possono fare eventi con il ballo. Quindi io un po' per ricordo dei vecchi tempi metto sempre no però anche lì è a discrezione. Quindi una volta inseriti gli orari di inizio e di fine dell'evento e quelli non cambia niente se dura anche all'inizio del giorno dopo e il numero di partecipanti anche lì il primo scalino come si può vedere nel tariffario è oltre i 200 invitati. Quindi al di sotto di 200 invitati puoi mettere la cifra che vuoi non c'è differenza se sono 85 o 195 oltre i 200 c'è un costo in più e così via. A questo punto si paga e qui finisce la mia simulazione perché io non faccio il pagamento comunque si può pagare direttamente e una volta pagato sei a posto. Come dire puoi svolgere l'evento tranquillamente. Non è finito però il lavoro da fare perché a questo punto tornando nella home se si clicca su i miei programmi risulta un programma musicale da assegnare e te in quanto organizzatore dell'evento dovrai assegnare il programma a un direttore dell'esecuzione. Come si fa? Si clicca su assegna qui fidati delle mie parole vado a memoria l'unico campo obbligatorio è quello dell'email quindi è sufficiente cercare l'indirizzo email del direttore dell'esecuzione musicista o DJ che suonerà all'evento. E a quel punto se è già presente comparirà nella lista sotto altrimenti li verrà assegnato e inviato alla mail al quale dovrà registrarsi. Attenzione particolare molto importante è importante conoscere l'indirizzo email con cui il musicista o DJ è registrato alla CIA perché se te magari ti iscrivi con questa persona ad un indirizzo email e assegna quell'indirizzo email. La CIA genera il programma musicale associato a quell'indirizzo email però se la persona è iscritta alla CIA con un altro indirizzo email si crea in una situazione di vuoto cosmico nel quale la persona non si può registrare con un nuovo indirizzo email. Perché il suo codice fiscale è già presente in CIA e quindi il permesso non può essere compilato e molto probabilmente con i tempi di risposta della CIA sarà già tornato al viaggio di nozze quando avranno trovato una soluzione. Quindi conviene essere sicuri dell'indirizzo email con il quale il DJ o musicista è registrato alla CIA. A questo punto sta a lui compilare il programma musicale il giorno dell'evento o prima o subito dopo. Dopodiché dovresti riaccedere al sito della CIA per consegnarlo alla CIA in quanto tu sei responsabile come organizzatore. Ma non ti preoccupare dopo un po' di giorni che il programma musicale ti è stato inviato va in automatico a in consegna. Spero con questa guida di aver risolto tutti i dubbi. Per gli approfondimenti rimando al video nel quale mi dedico a sviscerare vari passaggi ed esprimere le mie umili opinioni a riguardo. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti e continuo a seguirmi qui su Essere DJ Oggi. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti e continuo a seguirmi qui sui